Una categoria umana da evitare come la peste, quella dei sapientini, quelli insomma che te la spiegano sempre. Tu comunichi una notizia che può variare dall'appuntamento col gommista lo sbarco su Marte, loro la sanno già, anzi sanno tutto meglio e ti spiegano tutto nel dettaglio. Tu prepari un sugo e loro intervengono con consigli e pareri, tu racconti una barzelletta agli amici e loro intervengono continuamente per puntualizzare. I sapientini sono quelli che se devono comprare un paio di scarpe mandano alla neuro i commessi. Io ce l'ho avuto un fidanzato così. Il castigo del cielo. Comprava un paio di scarpe, poi le rodava tutto il giorno a casa e per non sporcare le suole copriva il pavimento coi fogli di giornale. Ma io dico ma che ci facciamo coi tipi così? Al massimo una partita trivial.